Le produzioni dei stedi sul territorio consentire a quelli di sopravvivere e possibilmente attrarne delle nuove dovrebbe essere un lavoro che chi ha responsabilità istituzionale a tutti i livelli dovrebbe fare in cittadini. Quindi è inutile caricare la croce a un sicco all'amministrazione. Io credo che tutto il territorio e quelli che hanno responsabilità istituzionale dovrebbero comunque provare a tentare queste strade. Sennò davvero siamo esclusivamente con voi a raccontare il mesmo felicidio di perdere di nuovo.